ciao ragazzi oggi vorrei fare con voi queste mini margherite che questa è quella che faccio con voi in un tutorial dove ho lavorato le petale rosse e anche il primo giro per diventare un quadrato l'ho fatto in rosso invece quest'altra ho lavorato le petale in rosso e il primo giro per fare il quadrato l'ho fatto invece in verde andiamo tutorial inizio lavorando 6 catinelle 1 2 3 4 5 6 vado nella prima catinella e chiudo con un punto bassissimo così ho formato un anellino adesso devo lavorare 7 catinelle 1 2 3 4 5 6 il 7 vado lì conto una catinella 2 3 e 4 vengo nella quarta catinella e lavoro un punto alto ritorno i facci 23 sempre nella quarta catinella sempre nelle stesse catinella 4 5 6 7 8 e 9 puntiati ho lavorato lì dentro 9 puntiati vengo qua dove ho le mie catinelle il mio anellino entro lì dentro e lavoro un punto basso così ho formato il mio primo la mia prima petala lavoro oltre 7 catinelle 1 2 3 4 5 6 7 conto novamente 1 2 3 catinella vado la nella quarta il lavoro la e dentro 9 punti alti allora entro dentro e faccio il mio primo punto alto secondo terzo 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 e 9 così ho lavorato 9 punti alti sempre la nella quarta catinella adesso vengo qua dove ho il mio anellino entro dentro e lavoro un punto basso lavoro nuovamente 7 catinelle 1 2 3 4 5 6 e 7 vado la nella la mia quarta catinella e lavoro là dentro i nuovi punti alti 1 2 3 4 5 6 7 8 8 e 9 ritorno la nel mio anellino il lavoro un punto basso lo dentro la il lavoro un punto basso e così devo continuare lavorando fino ad un punto basso e così devo continuare lavorando fino a avere otto petale ho già lavorato 7 petale manca solo la ottava per quello lavoro 7 catinelle 1 2 3 4 5 6 e 7 vado la nella mia quarta quinta catina questa catina della catina e per questo conto 1 2 3 vengo qua nella quarta il lavoro 9 punti alti 1 23 4 5 6 7 8 9 così ho lavorato 9 puntiati tutti i 9 nella quarta catinella nella stessa catinella adesso vengo qua dove ho il mio anellino entro lì e lavoro un punto basso vengo qua dove ho lavorato le catinelle per fare la prima petala io ho lavorato 4 catinella veramente ho lavorato 7 catinella sono andata nella quarta catinella io ho lavorato i miei 9 puntiati per quello qua giù sono rimasti 3 catinelle io devo andare lì dove ho la prima catinella e lavorare un punto bassissimo vado là nella seconda catinella e lavoro un altro punto bassissimo vado là nella terza catinella e lavoro un punto bassissimo entro qua nella quarta catinella che è quella dove ho già lavorato 9 puntiati è la stessa catinella che ho lavorato i 9 puntiati e lavoro un punto basso lavoro 3 catinelle vengo qua nella seconda petala entro lì con il mio ago dove ho la quarta catinella che è la stessa catinella che ho già lavorato i 9 punti alti proprio lì e lavoro un punto basso ho altre 3 catinelle vado nella prossima petala entro là nella mia quarta catinella che è la stessa catinella che ho già lavorato i 9 puntiati e lavoro un punto basso ho altre 3 catinelle vado nella prossima petala vado là nella quarta catinella e faccio un punto basso metto sempre le petale girato i punti alto verso di me e lavoro là dietro nelle catinelle per quello faccio 3 catinelle vado là dietro dove ho la quarta catinella che è dove ho lavorato i 9 puntiati e lavoro un punto basso ho 3 catinelle vado nella prossima petala entro là nella quarta catinella e lavoro un punto basso ho altre 3 catinelle vado nella prossima petala entro là nella quarta catinella e lavoro un punto basso ho 3 catinelle nella prossima petala entro là nella quarta catinella che è dove ho lavorato i 9 punti alti e lavoro un punto basso ho 3 catinelle vado là nella prossima petala che è la prima petala dove ho iniziato mio giro per quello io entro lì dove ho iniziato il mio giro che ho fatto il primo punto basso entro in quello primo punto basso e chiudo con punto bassissimo e così il mio fiore è rimasto pronto se io voglio che mio fiore diventi un quadrato allora io entro qua dove le prossime 3 catenelle il lavoro un punto bassissimo lavoro 3 catenelle ritorno sempre lì nelle stesse 3 catenelle il lavoro due punti alti 1 e 2 così io sono rimasta con tre punti alti lavorerò 3 catenelle ritorna nello stesso posto e faccio altri tre punti alti 1 2 e 3 così qua ho formato un angolo di un quadrato lavoro una catenella vengo qua dove ho le prossime 3 catenelle lavoro 3 punti alti 1 2 e 3 una catenella vengo nelle prossime 3 catenelle e faccio altre tre punti punti alti 1 2 e 3 2 catenelle che tono la nelle stesse catenelle nelle stesse 3 catenelle 1 2 e 3 1 catenelle vengo qua dove ho le prossime 3 catenelle il lavoro 3 punti alti 1 2 e 3 una catenelle e arrivo qua dove ho lavorato il mio primo angolo vado lì dove ho le 3 catenelle iniziali che mi vale come primo punto alto entro là nella terza catenella e chiudo con un punto bassissimo così posso tagliare il mio filo perché qui io ho finito se voi volete continuare a lavorare il quadrato potete continuare tranquillamente dove c'è gli angoli lavorate sempre lì nelle due catenelle un altro angolo così può crescere e diventare della misura che desideriate il mio l'ho fatto solo un campione rimarrà così e così sono diventati i miei fiorellini pronti grazie a tutte per il talk satanelle un hin 알아2 e5 un' piace i